Arriva il primo concorrente numero 243 Carlo Stinelli Fino in fondo all'imposto, grazie Fino in fondo all'imposto Il primo concorrente numero 171 Fino in fondo all'imposto Fino in fondo all'imposto, grazie 280 247 250 59 100 310 216 734 Proseguire, lasciare libero il percorso 629 2, 57 5, 72 Proseguire nell'imbolta uno dietro l'altro Non superarsi La prima donna 790 3, 76 Dai, vai, vai, non fermarsi, grazie 4, 41 109 Non fermarsi, grazie Andiamo avanti Lasciamo libero l'arrivo Uno dietro l'altro Separato la liga del treguardo 628 1, dietro l'altro Mantenevano la posizione 1, dietro l'altro 1, dietro l'altro 2, 56 5, 66 5, 66 5, 72 5, 77 6, 106 Proseguire nell'imbolta uno Lasciamo libero il percorso 2, 45 2, 73 Proseguire Vieni in fondo 6, 104 4, 100 6, 81 Proseguire 148 Superate la linea del traguardo Uno dietro l'altro Non superarsi Non superarsi 2, 24 Non superarsi Avanti, avanti, avanti 5, 56 62 Mantenere la posizione 173 107 Proseguire nell'imbolta uno 19 180 118 623 Aprire il numero All'atleta Ok 174 Vado a vedere bene Vado a vedere Entra, entra, entra Vai, 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 vai 352 5, 91 3, 45 88 6, 95 Proseguire nell'imbolta Proseguire Non fermarsi 4, 46 2, 68 Proseguire Proseguire Uno dietro l'altro 5, 82 2, 13 Lasciamo libero L'arrivo 181 Ragazzi Lasciamo libero Vai, vai, vai Velozzi, velozzi 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 706 3, 32 3, 36 Via 3, 24 5, 63 198 6, 69 6, 69 7, 72 8, 74 9, 75 1, 75 9, 95 9, 96 9, 97 11, 98 Grazie.